Rega Research con l'RP8 rivoluziona l'ascolto analogico e lo fa con un giradischi che sviluppa ulteriormente più che mai la filosofia di progetto Rega. Ha un design radicale e innovativo. Nuovo braccio RB808, motore a 24 volt controllato da un alimentatore elettronico calibrato su ogni singolo motore, piatto in vetro a triplo strato e versione ridisegnata e migliorata del gruppo perno del P9. Queste sono solo alcune delle caratteristiche di questo incredibile giradischi. L'RP8 nella sua interezza è progettato per estrarre dai solchi dei vostri vinili la maggior quantità di musica possibile. E nel 2013 Rega è stata premiata come one of the best designer of all time da due dei più rispettati designer al mondo, ovvero Johnny Eve e Mark Newsom di Apple. Questo giradischi è completo di testina MC a feta in perfette condizioni. Il prezzo della sola testina ammonta a 1600 euro. In dotazione anche l'alimentatore PSU per il controllo elettronico della velocità che permette anche il cambio giri. Lo trovate in condizioni pare al nuovo con imballo originale. Il coperchio in plexiglass è senza il minimo graffio. Il coperchio in plexiglass è senza il minimo graffio.